Carissimi amici, Argonauti dello Spirito, ben ritrovati sul nostro canale, su un fuoco sacro. Ho visto che l'introduzione all'agnosi, al mondo arcontico, a questa trilogia di scritti da bellognostici vi ha molto incuriosito. Numerosi sono stati i commenti e alcuni di voi mi hanno scritto in privato per continuare l'esposizione del contenuto di questi testi. Oggi, pertanto, daremo lettura ad alcuni passi tratti dall'ipostasi degli arconti e gli commenteremo. Allora, innanzitutto il titolo, ipostasi. L'ipostasi è ciò che sta sotto, è quindi una creazione. L'ipostasi degli arconti è quindi la creazione degli arconti. Possiamo anche vederla come la creazione dove agisce l'uomo e che è posta sotto il dominio degli arconti. Quindi abbiamo il nostro mondo, il mondo della manifestazione, il mondo degli arconti e, come sappiamo, sopra il mondo degli arconti vi è il mondo degli eoni o pleroma. Vi invito, pertanto, a rivedere tutte quelle conferenze che hanno preceduto questo momento e dove è stata tratteggiata la mitologia gnostica. Iniziamo. Nello spirito del padre della verità, il grande apostolo disse la nostra lotta non è contro creature fatte di carne e di sangue, ma contro i principati e le podestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che dimorano le regioni celesti. Allora, il grande apostolo, udite udite, è Paolo di Tarso. Numerose sono le scuole gnostiche che fanno riferimento a Paolo di Tarso come dante causa di un'opero di insegnamenti esoterici, di insegnamenti riservati, di insegnamenti destinati ad una cerchia, ad un'elite di discepoli. Perché tutto ciò? Qualcuno mi ha scritto in privato ma Paolo di Tarso non è quello che fondamentalmente ha speso dure parole nei confronti delle donne e mentre le donne avevano all'interno dell'ognosticismo un ruolo. Allora, amici miei, cerchiamo di comprendere né io né voi eravamo al tempo di Paolo di Tarso da un lato. Dall'altro lato va detto che il fulcro dell'ognosticismo non è tanto la condizione della donna quanto questo dualismo che si viene a creare fra conoscenza e ignoranza e la conoscenza gnostica assume tutta una serie di requisiti. Punto tre. Non esiste un'unica scuola gnostica. Esiste un movimento un movimento variegato all'interno di chiesa all'interno di strutture all'interno di comunità dove ognuna aveva delle proprie peculiarità di insegnamento delle proprie peculiarità operativa e ovviamente delle proprie peculiarità nei confronti un'eventuale parità di trasmissione e di operatività sia dell'uomo che della donna. Tutto questo per dire che fondamentalmente noi dobbiamo concentrarci un attimino su questo testo. Perché Paolo di Tarso assume in alcune scuole gnostiche la veste di Dante Causa di questi insegnamenti? Perché Paolo di Tarso ha determinate caratteristiche. La prima caratteristica che è la seguente Paolo di Tarso non ha conosciuto materialmente Gesù non faceva parte dei suoi discepoli barretta apostoli l'apostolo è colui che porta l'insegnamento che divulga l'insegnamento non faceva parte del gruppo materiale perché? Perché non l'ha mai conosciuto. Paolo di Tarso lo sapete si converte al cristianesimo a seguito di una illuminazione di una manifestazione individuale che lo porta a cadere da cavallo e cavallo anche qui bisogna capire il senso simbolico il cavallo è lo strumento il mezzo che ti conduce lungo una via ma è anche un segno di ricchezza quindi il cadere dal cavallo significa interrompere un determinato percorso e cambiare completamente la vita perché da cavallo poi ti muovi a piedi quindi c'è questa prima caratteristica c'è quella dell'illuminazione individuale e noi sappiamo che l'ognosticismo parla al singolo non alla collettività la seconda perché nei suoi scritti le lettere Paoline questo estratto iniziale si riferisce se ben ricordo alla lettera agli Efesini anzi vi sarò più preciso Efesini 6.12 e nei suoi scritti lui parla di aver conosciuto ad esempio un uomo che lui non sa se in sogno in un altro modo ha risalito tutti i cieli ti parla di fratellanza spirituale di figliolanza spirituale ti parla e lo abbiamo letto adesso di una lotta spirituali contro contro principati e podestà che dominano questo mondo di tenebra di ignoranza cioè tutti quindi un qualcosa di occulto un qualcosa di non evidente un qualcosa di non manifesto che ben sappiamo essere argomenti questi graditi all'ognosticismo classico andiamo avanti vi invio questo scritto quindi l'estensore dello scritto continua affinché siate informati sulla verità di queste potenze quindi questo scritto l'ipostasi degli arconti è una sorta di testimonianza è un qualcosa una chiave che permette all'uomo o che dovrebbe permettere all'uomo a cui è destinato di poter leggere di avere quegli strumenti percettivi cognitivi per poter scardinare la manifestazione arcontica e capire quello che vi è dietro il loro grande sovrano il demiurgo gli Aldavaut cioè colui che è nato dall'errore della Sofia e abbiamo visto che errore non è da intendersi in chiave morale ma proprio secondo l'etimo della parola errore errare senza meta girovagare senza meta il loro grande sovrano reso cieco a motivo della sua forza della sua ignoranza e della sua arroganza ha detto io sono l'unico Dio non vi è nessun altro al di fuori di me allora reso cieco che significa è cieco di fronte alla verità e qual è la verità che esiste un Dio prima di Dio che esiste il pleroma e la plenitudine del pleroma cioè che esiste questo mondo spirituale perfetto e cieco non vede perché nel simbolismo dell'ognosticismo è vedere si vede non si comprende ma vi è proprio questa lirica della luce questa lirica della luce che inrompe e che permette di vedere quanto prima era celato nell'ombra nella tenebra non nel buio badate bene è buio non si vede niente no ma la tenebra l'ombra che distorgano le forme e infatti il mondo del demiurgo è una distorsione del mondo spirituale superiore per quale cagione egli è cieco per tre motivi a motivo della sua forza lui vede che può creare tramite la propria potenza e non vi è nessuno sul suo piano forte quanto lui quindi questo gli crea orgoglio della sua ignoranza perché lui non sa dell'esistenza del mondo pneumatico quando quando lui crea e della sua arroganza perché fa perché può fare non vi è un disegno lui fa perché può fare è il mondo del fare mentre l'altro è il mondo del pensiero il mondo dell'intelletto in che cosa si riassume questa sua ignoranza in questa esplicitazione io sono l'unico dio non vi è nessun altro al di fuori di me permettete questo commento volgetevi a me e sarete salvi prese tutti della terra perché io sono dio e non ce n'è altri Isaia 45 22 come vi ho sempre detto nell'ognosticismo storico specialmente quello di stampo barbelotiano l'antico testamento la Torah sono riletti come attraverso il filtro di uno specchio attraverso un riflesso e quindi chi all'interno di quella tradizione ha un ruolo positivo viene rovesciato il dio dell'antico testamento Yod-He-Va-We che è il dio del fare viene visto come Jaldabaoth come il Demiurgo non chiedetemelo a me così è nella loro tradizione quindi qua evidentemente si fa riferimento al dio dell'antico testamento quando proferì questo quando proferì queste parole egli bestemmiò contro il tutto il tutto la plenitudine la pienezza del pleroma e la sua parola raggiunse l'incorruttibile dal quale uscì una voce che disse è l'incorruttibile cioè colui che è uguale a se stesso colui che niente può mutare non lo può mutare il tempo non lo può mutare lo spazio non può essere mutato neppure dal proprio pensiero quindi che non vi è separazione è incorruttibile incorruttibile qui va inteso come uguale a se stesso come unità di misura di se stesso dal quale uscì una voce che disse ti sbagli Samael tu sei il dio dei ciechi è uno dei nomi del demiurgo Samael che in ebraico è gastigo o veleno di dio è una è un arcangelo è anche un arcangelo nella tradizione talmudica e post talmudica ha un ruolo di accusatore di seduttore di distruttore spesso associato all'angelo della morte ad Azrael e che non ha un ruolo un ruolo ben determinato non è né buono né cattivo è una sorta di giolli e quindi continua questo parallelismo ma però viene evidenziato l'errore del demiurgo l'errore di Samael l'errore diciamo che viene detto no guarda tu sei solamente il dio dei ciechi cioè di coloro che come te non riescano a vedere la verità i suoi pensieri da cui si era manifestata la sua potenza perché comunque si sottolinea che la potenza è frutto di un pensiero ci stiamo riferendo al demiurgo erano ciechi cioè erano dei pensieri che fondamentalmente come abbiamo detto in precedenza non tenevano in considerazione questa verità cioè di questo mondo superiore e la blasfemia aveva così parlato nell'ognosticismo storico ancora una volta si sottolinea come tutto ciò che è frutto dell'errore è blasfemo l'errore ha una funzione di dissacrazione cioè l'errore ti porta fuori dal perimetro del sacro egli il demiurgo ha imitato l'imitazione continuo egli ha imitato sua madre la pistis di sofia l'imitazione è un concetto ricorrente in ambito barbelognostico è la forza è tramite la forza dell'imitazione che deriva da una rimembranza di una rimembranza insita all'interno degli arconti che quest'ultimi creano plasmano questo mondo è sempre una imitatio è sempre un qualcosa che loro all'inizio ritengano essere una loro idea originale ma in realtà non è una loro idea originale sono rimasugli sono frammenti di questo ricordo che hanno tradotto dalla loro madre dalla pistis sofia di questo mondo superiore e quindi fondamentalmente notiamo che il primo inganno degli arconti è l'inganno nei confronti di se stesse dei loro medesimi e gli ha imitato sua madre la pistis di sofia leone periferico che attraverso la sua caduta si è venuto a si è venuto a determinare il demiurgo e dal demiurgo gli arconti e dal demiurgo più gli arconti il mondo manifestativo e poi come vedremo l'uomo fin nel caos e nell'abisbo dove ha plasmato la sua progenie ciascuno secondo il suo potere e avendo a immagine gli eoni che sono nella regione superiore poiché le forme visibili erano immagini del ricordo delle forme invisibili qui viene esplicitato quanto vi ho detto in precedenza questo mondo in tutte le sue articolazioni care alla mitologia barbellotiana ma anche alla mitologia agnostica non è altro che una difettosa riproduzione del mondo superiore come l'incorruttibilità ebbe guardato in basso nelle regioni delle acque e le acque rappresentano le emozioni rappresentano questo elemento dinamico ma rappresentano anche un qualcosa di impermanente che può cambiare di stato che può cambiare di forma a seconda della costrinzione o a seconda nel caso precedente l'assenza di calore la sua immagine si riflesse sulle acque e le potenze delle tenebri si innamorarono di essa cioè capite anche qua e di nuovo c'è il concetto dell'immagine cioè questo eone incorruttibile che a un certo punto squarcia il velo del mondo arcontico gli arconti non lo vedano non volgano la testa verso l'alto ma lo vedano riflesso nelle acque che hanno vari significati sapienza antica come vi ho detto parte emotiva ma fondamentalmente sono anche le acque gestazionali le acque uterine perché è da dove poi si viene a formare un attimino tutte le reazioni arcontiche come vedete è molto ricco di simboli è molto ricco di immagini ecco questo eone incorruttibile loro vedano il riflesso e appena vedano questo riflesso loro si innamorano di nuovo dell'immagine ma non posegono i preadornisti di tale immagine a causa della loro debolezza perché quelli dell'anima i mem sicos non possono impossessarsi di quello di quelli dello spirito i mem pneumaticos poche erano al di sotto e l'immagine proveniva dall'alto allora il mondo arcontico è un mondo psichico è un mondo che non è spirituale è il mondo dell'anima io ve lo vi ho già detto che fondamentalmente all'interno dell'ognosticismo storico vi è questa tripartizione materia anima psiche e spirito su questo piano c'è l'anima l'uomo gode fondamentalmente di 2 barra 3 anime l'anima arcontica l'anima spirituale che è un riflesso dello spirito l'uomo gnostico ovviamente è un'anima naturale continuiamo a tale motivo l'incorruttibilità guardando verso il basso avrebbe potuto congiungere la totalità della creazione arcontica con la luce secondo la volontà del padre ma non l'ha fatto questo avrebbe potuto farlo ma ciò non è accaduto perché non è accaduto perché da un lato il tempo del mondo del pleroma non è il tempo di questo mondo e dall'altro lato essendo il processo degenerativo che ha portato a questa manifestazione causato da un errore cioè da un errato modo da un modo sbagliato di pensare di valutare di percepire è necessario una rettificazione ma questa rettificazione non può essere imposta deve essere un movimento ascensionale cioè che dal basso ascende verso l'alto attraverso tutta una serie di procedure è l'uomo gnostico che si deve rendere conto che è dell'errore deve rettificare questo errore attorno gli vengono dati tutta una serie di strumenti di chiave di lettura ma è lui che poi deve dar vita a questo processo che porterà alla che porterà nuovamente il pneuma verso il mondo pneumatico il riassorbimento del mondo arcontico o come o in altri termini se la volete vedere così uno sgonfiamento di questo palloncino psichico ma tutto ciò deve essere una rettificazione un processo individuale di ogni ente e per questo che viene detto che l'agnosi è veicolo in forma di redenzione redenzione dall'errore veicolo perché è uno strumento ma è anche forma perché poi ti informa verso altro allora gli arconti si riunirono a consigli e cospirarono gli arconti sono scossi sì prima si sono innamorati ma poi hanno capito che tutto ciò può portare a uno sconvolgimento del loro mondo venite creiamo un essere umano a sua immagine cioè a immagine dell'incorruttibile con la polvere della terra essi modellarono la loro creatura interamente di terra gli arconti presero presero un poco di terra e plasmare la loro creatura secondo il loro corpo e secondo l'immagine del dio che era apparso loro nelle acque ora sappiate che gli arconti hanno un corpo che è femmina ma è anche maschio e il loro aspetto è quello di bestie perché fanno ciò gli arconti ma fanno ciò fondamentalmente loro danno vita ad un simulacro danno vita ad un simulacro da un lato per raccogliere il riflesso dell'incorruttibile cioè per captare questo riflesso che è comunque un riflesso di potenza dall'altro è un po' una sorta di talismano della serie guardate io ho questo ho questo uomo questo uomo che è riflesso e fondamentalmente è il mio amuleto che mi dovrebbe proteggere a causa della loro impotenza non comprendevano la potenza di Dio egli soffiò sul viso dell'uomo egli è il demiurgo e questo divenne psichico ovviamente loro non possano comprendere leone che come abbiamo visto proviene da un leone incorruttibile che proviene da un mondo superiore ma non poteva vivere a causa del loro difetto e rimase disteso sulla terra per molti giorni vivere qui va inteso come essere munito di una propria volontà insiste insistettero conventi impetuosi per far acquisire all'uomo l'immagine che era apparsa loro nelle acque ma non conoscevano la verità del suo potere del potere di questa immagine ora tutte queste cose avvennero in conformità al volere del padre della plenitudine del pleroma allora e qui si conclude poi il prossimo appuntamento proseguiremo la discesa allora immaginatevi prima di tutto ricordatevi che il tempo del pleroma non è il tempo dell'uomo e già questo qui l'avete sentito il tempo di Dio non è il tempo dell'uomo abbiamo un movimento discensionale causato dall'errore cioè dalla imperfetta valutazione della Sofia questo movimento discensionale determina il la creazione del mondo arcontico che è un mondo di errore è un mondo di errore rispetto al mondo del pleroma non sono un mondo di errore ma è un mondo che nasce attraverso tutta una serie di ricordi permutati a livello potremmo dire gestazionale dalla Sofia da parte degli arconti che ingannano quindi loro stessi gli arconti si ingannano e Demiurgo si inganna e gli arconti e i suoi figli sono ingannati dall'autoinganno del Demiurgo tutto ciò a termine nel momento in cui appare l'incorruttibile questo eone è uguale a se stesso perché è posto fuori dal tempo e dallo spazio che fondamentalmente porta un messaggio questo messaggio è se stesso è la sua visione tranciante e deflorante a questo punto il Demiurgo e quindi gli arconti si rendano conto del proprio autoinganno ma invece di redimersi loro invece di sviluppare il pentimento sviluppano la paura la paura che il loro mondo possa essere in ogni momento devastato da questa potenza al loro superiore al che che cosa fanno dato che loro hanno goduto solamente di un'immagine di questo eone incorruttibile decidano di creare l'uomo l'uomo contenitore affinché raccolga da un lato le fattezze di questo eone incorruttibile e funzioni a modi amuleto questo lo vedremo meglio in seguito ma tutto ciò avviene in conformità del volere del padre della plenitudine del pleroma perché perché è il processo che il padre del pleroma ha voluto porre in essere affinché il processo gnosologico cioè il processo di rettificazione delle opere delle opere della volontà volontà forza e del pensiero che vi stanno dietro sia rettificato e poi venga nuovamente riassorbito all'interno della plenitudine del pleroma questo è fondamentalmente l'apertura dell'ipostasi degli arconti nelle prossime conferenze continueremo se ci sono domande vi prego scrivetemi io cerco di essere chiaro quanto possibile ma ovviamente anch'io tendo ovviamente a dare per scontato alcuni concetti a tralasciarne altri mi raccomando quando affrontate temi legati all'ognosticismo storico delimitatene sempre il contesto a presto ritrovarci sul nostro canale delimitatene www.sardinoutube.com e legati luigi